Due, tre, quattro, oh, ahia la schiena, ahia, ahia Ora fare esercizi a casa, eh vanno? Eh, abbastanza Beh, se vuoi posso aiutarti io Eh, oppure io Mario? Sonic? In persona! Wow, e come vorreste aiutarmi? Con le Olimpiadi mi sembra ovvio Ma non le avevano rinviate? Perché? Secondo te avresti mai potuto qualificarti? No, hai ragione, a meno che non facessero una sezione apposita per quegli scarsi, non avrei speranze Tranquillo, le faremo virtuali Ah, giusto, con la Switch Esatto, e più ti aiuteremo ad allenarti, usando qualche trucchetto Qualche trucchetto? Eh, potresti rispiegarmi la cosa cortesemente? Te l'abbiamo detto, ti aiutiamo nell'esercizio Sì, ma perché ho in mano una scopa? Ah boh, noi ti avevamo chiesto un remo Certo, perché in città chi è che non ha un remo in casa, no? Ho preso la roba più simile che abbia trovato Andrà bene, comunque la prima disciplina sarà la canoa Ottimo, io in acqua non sto in equilibrio manco sul pedalò Forza amico, andiamo e segui il ritmo Ok, diciamo che sono pronto Forza, pronti, via! Ah, ho avuto un piccolo problema Ho notato, non riesci a tenere il passo neanche per sbaglio No, ho l'assetto con le ruote Ok, forse è meglio optare per una roba più tranquilla Sara, le ruote si sono poi incastrate in un filo e sono caduto di faccia Perfetto, allora sarei contento di poterti sfogare con un po' di box Cosa? Ma cosa servivano i guanti se no? Penso di aver frainteso Ma ti ho detto guanti per una battaglia Eh, ma credevo una battaglia di cucina Combattiamo, va? Cosa? Ma siamo contro tuo fratello Beh, allora mi vendicherò Per tutte le volte che mi prendevo in giro quando eravamo piccoli Perché dicevo di avere i baffi più belli dei miei Ah, beh, scusa? Vai, attacca! Vai, 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 vai! Bene, così, ottima tecnica Eh, ma grazie Forza, vai, colpisci Sì, sì, colpisco, colpisco Difenditi Sì, sì, difendo, difendo Forza, stiamo andando bene Sì, sì, bene, bene Attento, e sta per tirare uno forte Forte? Aia, aia, mano Devi tirare su i Joy-Con Buono, il conteggio Sì, i Joy-Con, sì Prima però riposo un po', eh Ok, il pugilato non è il tuo forte Che ne dici di una bella corsetta? Ah, dai, ci può stare Però con te non sarebbe troppo facile Hai ragione Infatti ho pensato ad altro Hai una cuffia? Ah, ma certo Eccola qui Gara di karaoke Veramente pensavo più a una gara in piscina Ah, ci sono cascato di nuovo Vabbè, l'importante è aver capito Ora vai sul letto Oh, sì, grazie Dopoprima una bella dormita è quello che ci vuole No, no, non hai capito È per la competizione In che senso? Bene, Vano Pronto ai blocchi? Non sono convinto di quello che sto facendo Dai, su, ti troverai benissimo Occhio solo al muro quando devi tornare indietro Ehm, va bene Ok Pronti? Via Via Forza, nuota, nuota, nuota Ehm, va bene, va bene Ce la posso fare Occhio al muro, torna indietro, usa R Dov'è sto R? Io sto nuotando Vabbè, lascia stare, continua Come andiamo? Ehm, bene, bene Ehm, finito comunque Ok, fa vedere Ma ho notato come un pazzo Come faccio ad essere ultimo? Ehm, devo dirti la verità Io non so nuotare Scusa, hai fatto fare tutta quella fatica Per cosa? Speravo di riuscire a vincere almeno con te Scusami Ecco perché è giubottino Vabbè, fa niente, tranquillo Mario, cosa proponi? Stavolta, davvero una cosa semplice Non ti servirà nulla Ah, bene, buona sapersi E che cosa? La ginnastica artistica No, ascolta Non sono abbastanza graziato Dai su, forza Tu, muoviti come ti viene L'importante sono i tasti giusti E va bene Vediamo cosa ne viene fuori Forza, via, corri Ok, questo so farlo Premi i tasti e muovi il Joy-Con Oddio, è un disastro Di nuovo, forza Riprova Bene La fine perlomeno non la sbagli Ancora Ti vuoi così Qua, cosa Con due rigini E fai Penso che tu non ne abbia beccato neanche uno Ah, fantastico Però Perlomeno mi sono mosso Beh, sei sui 4.000 E il penultimo ha fatto tre volte il tuo punteggio Beh, a mia difesa Ti avevo avvertiti, eh Sonic Tu, qualcosa di più semplice magari Io uno È una raccata da ping pong per caso Eh, in realtà no Ma posso arrangiarmi Eh, perfetto Mario, ci dai una mano? Smi, Mario Andiamo con il tennis tavolo Ok, ci sono Quella è una padella? Eh, sì, esatto È carina, vero? È anche antiederente Vabbè, lasciamo perdere E giochiamo Ok, battuta Vai Mario Lo prendo Arriva Oh, ops Mancata Dai, con calma Ce la puoi fare? Sì, tranquillo È stato solo un caso Non ci siamo ancora Eh, ma arrivano qui E con la padella faccio fatica Ottimo Match point per loro Ok, basta Almeno un punto devo farlo Prendi questo Ottimo, Vano Vedi che quando vuoi ce la fai Sì, e vai Effettivamente mi dicevano tutti Che sarei diventato una stella olimpica Nel ping pong Attento, arriva Oppure dicevano di darmi all'impica Non mi ricordo Detto fatto No, no, no Aspetta Che hai fatto? Come ce lo faccio entrare un cavallo qui? E soprattutto dove lo prendi? Comunque tranquillo Hai una sedia, no? Eh, sì Magari senza ruote però, eh? Giusto Effettivamente sarebbe meglio Comunque anche quella Ma cosa servirebbe? Sei pronto? Sì, si può dire così, dai E allora andiamo Forza, forza Forza, ma il cavallino Ok, arriva il salto Ottimo, bravo Ora gira Mamma mia Stavo cadendo Altro salto Fatto Ok, siamo così alla fine Gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira Forza Dio male in casa Vedo cosa trovo Forza, andiamo col calcio d'inizio Eccomi sono pronto Seriamente Hai preso della carta igienica? Eh, questa avevo Vabbè Via Via Ho calciato il pallone Fa niente Simula il movimento Ok, forza Difendiamoci Chiudilo Ok, valla recuperata Ma chi sono quelle Tartarughe con i denti? Sono la nostra difesa Ottimo Forza, tarta uno Vai, 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 vai Sì, sì È da solo E touchdown Meta Si dice meta È rugby Non football Mamma mia Come sei pignolo però Pronto per la trasformazione? Certo Super No, no Fermo Devi solo calciare Ah, scusa Tranquillo, va bene Calcio subito È trasformato Sì Altro che CR7 qua Occhio attaccano Sonic, chiudilo presto No, troppo tardi No Speriamo sbagliare il tiro E invece siamo pari Dai, ci rifacciamo nel secondo tempo No, l'ha intercettato No, fermatelo Mita ragazzi La vedo veramente dura Sbaglia, 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 sbaglia Fuori Ah, e vai Ma l'occhio ha funzionato Ma purtroppo è finito il cerco Ma non è possibile Dai, ho perso pure qui Di questo passo non mi daranno neanche la medaglia di cartone Aspetta, Vano Ho un'idea Cioè? Quelli sopra sono veri? Sì, perché? Allora, sei pronto? Certo, ma perché non mi avete detto subito che c'era anche il calcio? Beh, che prima volevamo farti fare un po' di movimento Forza Ora, pallone tra i piedi e iniziamo Non me lo faccio dire due volte Forza, iniziamo Vai che è subito buono, calcia Ops Scusi Mi sa che ho preso una vecchietta Mi dispiace Occhio al cross Uh, grande portiere robot Guardaci, testa solo Vai, scogliattolino, forza Parata Ah, cattivo portiere robot Presta, c'è una testa solo Tiro di nuovo Niente, ha preso anche questa Aspetta, ma cosa sta facendo? La principessa sta facendo un super tiro Forza, portiere robot Blu, sono con te Parata, sì Uh, stavolta me la sono vista brutta Siamo arrivati addirittura ai supplementari Mamma mia, è incredibile, davvero Anche se con tempi da un minuto potevo anche aspettarmi Basta, chiudiamola Super tiro Wow, che botta Yeah Sì Grandi C-R-Song Ma è finita? No, non dirlo Ma non ci credo Ma non ci credo, ho segnato pure di tacco Ma dai, ma solo con me ste robe però Ho paura che ormai ci tocchino i rigori Non è detto, abbiamo ancora tempo No, parata Aspetta, arriva Tense Goal Sì, grande scogliattolino Medaglia d'oro Grande Vanna, ce l'abbiamo fatta Sì Ancora non ci credo Ah, grazie Ci tenevamo tanto anche noi a questa medaglia E beh, immagino Tra l'altro mi sono pure allenato un sacco Sono stanchissimo Vai pure a riposare, tranquillo Ciao, e a presto Ciao, ciao ragazzi Eh ragazzi, incredibile Ma ce l'abbiamo fatta Abbiamo vinto una medaglia d'oro Bene ragazzi, questo era Mario e Sonic alle Olimpiadi di Tokyo 2020 E spero di avervi dato un modo per muovervi Anche se non fate proprio come me Anzi, prendete le dovute precauzioni E stringetevi Joy-Con Prima che finite per rompere la televisione o peggio Ed evitate robe tipo padelle o guanti da cucina Non si sa mai dove possano finire Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto Vedete mi piace Iscrivetevi al canale E soprattutto condividete E noi ci vediamo domenica con un altro nuovo video Bella E adesso vado a riposarmi Sono morto P Victorian Sono morto Oh 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 Grazie a tutti.